Il personale del commissariato di polizia di Stato di Rossano è intervenuto presso un pubblico esercizio della cittadina ionica a seguito di una specifica richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte del titolare dello stesso locale, il quale ha denunciato agli agenti di essere vittima di estorsione dall'uomo denunciato già da diverso tempo e che i soldi gli venivano estorti attraverso minacce, disorti leggi, non solo a suo danno ma anche a danno dei propri familiari. L'esercente è stato coinvolto anche in una colluttazione dopo essersi rifiutato di consegnare il denaro e dopo la denuncia è stata avviata un'attività investigativa che ha permesso agli agenti del commissariato di Rossano di accertare che le richieste di denaro venivano effettuate da parte del denunciato anche ad altre persone dallo stesso minacciate da ogni tipo di maleficio. Del materiale per rituali esoterici satanisti sono stati rinvenuti inoltre anche nel veicolo dell'uomo denunciato a piede libero.